Salve a tutti, oggi sono al castello di Maggi, il castello dell'Aerone Bianco. Guardate che bella giornata che è, come dico sempre, l'autunno la miglior stagione per venire in Giappone. Andiamo a fare questa visita a questo eccezionale e bellissimo castello. Oggi è il 26 di ottobre, non è estate ovviamente, però insomma è anche abbastanza caldo. Infatti i colori dell'autunno ancora un po' pochi perché non fa abbastanza freddo. Adesso entriamo in quella che si chiama Tenshikaku, cioè il maschio, la struttura centrale del castello. Che dentro poi c'è tutto un sistema di scale abbastanza ripido, sia per salire ma soprattutto sarà duro per scendere. Siamo arrivati sotto ecco. Adesso bisogna togliersi le scarpe tra l'altro. Stogliamo le scarpe, qua su, qua c'è la fila. Occhio anche alla testa qui. Molto bello qui. Il castello alla fine del periodo Tokugawa, cioè dal periodo Meiji in poi, dal 1868, come tanti castelli, dopo quindi lo shogunato dei Tokugawa era insostenibile come spesa. Il sistema fedale era finito, quindi non era più la casa del signore locale. E tutti questi castelli passarono allo Stato. Lo venne comprato nel 1920 per 23 yen. Che voi dite saranno tanti? L'ora di oggi, poi ovviamente andava mantenuto. Ma c'è anche poca gente, o meglio. Prima è passata una scolaresca che ha impallato tutto. Qui siamo proprio sotto eh. Cominciamo la visita. Ecco qua, qui siamo nella struttura principale. Tutto il legno. Qui si vede proprio come è costruito un castello giapponese antico. Secondo piano. Sempre più difficile, sempre più ripido per il terzo piano. Ancora c'è la vita eh. Per il quarto piano. Eccolo qua. Quarto piano. Vediamo, non so se è l'ultimo. No no, non è l'ultimo questo qui ancora. C'è un altro. Di qua. E poi siamo arrivati in cima. Ultima scala ripida. Questa è quasi verticale qui eh. Ah cavolo. Ah no, non è l'ultima eh. Siamo arrivati in cima. Questa è la vista da qui. Col pescione simbola del castello di Mezzi. Eccolo. E anche l'altare principale con frutta e alcol. Come sempre sono i cacchi. Adesso scendo ma il video non lo faccio. Ho paura. Che le scale sono ripidissime eh. Sono sopravvissuto alla discesa più ripida. Questo era, vedete eh. Dove mettevano le armi. Qui venivano appoggiate le lance e tutto il resto. Vedete? Questo è come si presenta la struttura, il modellino di come si presenta la struttura interna del castello. Ecco qua, tutto il legno. Ci abbiamo le varie parti storici attaccati al castello. Di vari pezzi del castello nelle sue forme attraverso gli anni. Siamo riusciti all'aperto. Anche oggi siamo sopravvissuti alle scale del castello di Mezzi che per scendere è sempre un po' particolare. Adesso ci aspetta qui sotto. Qui c'è tutto questo spiazzo da cui si vede proprio il castello nella sua interezza sotto davanti. Per chi ha visto l'ultimo samurai, alcune scene dell'ultimo samurai con Tom Cruise e Ken Watanabe sono state girate qua. Tra l'altro Ken Watanabe interpreta, nel film si chiama Katsumoto, ma interpreta un personaggio storico realmente esistito che è Saigo Takamori. Ora, senza stare a parlare di Saigo Takamori, però sono una figura importante. Se volete approfondire quel periodo storico lì, che è quando il Giappone sostanzialmente, dopo la fine del periodo feudale, si apre verso l'estero e ci sono alcuni contrasti appunto tra chi era favorevole all'apertura del periodo Mezzi verso l'occidente e chi era favorevole, come appunto con la rivolta guidata da Saigo Takamori. Chiudiamo questo capitolo. Oltre all'ultimo dei samurai, un altro film che in alcune scene sono state girate qua è 1007 con Sean Connery che si vive sempre due volte. Quindi, castello molto importante, bello, conservato eccezionalmente. Avete visto dentro, effettivamente c'è niente, anzi però è comunque molto affascinante arrivare fino in cima. È stato ristrutturato completamente dal 2010 al 2015, infatti è stato chiuso. Mi ricordo che con un tour ero venuto qua nel 2010 e poi una settimana dopo aveva chiuso ed è stato riaperto cinque anni dopo ad aprile del 2015. Non vengo spesso qua, però tutte le volte che vengo entro perché nonostante la fatica di arrivare in cima è un castello che mi piace veramente tanto. Qui sotto c'è anche il parco, vi consiglio di visitarlo nel periodo della fioritura dei ciliegi ancora per i colori dell'autunno nonostante sia fino a ottobre è un po' presto, qui tanto fa la foto scusate, sto facendo un po' di casino. Grazie a tutti per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video da Giappone. Ciao ciao!